Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video, oggi siamo qui con un nuovo contest Faccio questo contest per l'arrivo prossimo dei 3000 iscritti Voglio festeggiare questo, diciamo, evento E per festeggiarlo ho deciso di fare questo contest Visto che non vi ho mai regalato nulla Questo è il momento giusto per legararvi qualcosa di sostanzioso e di bello Mi limiterò a dirvi i premi in palio Il resto, come partecipare Tutte le piccole cose da sapere, cosa bisogna fare, eccetera Lo troverete tutto in descrizione Quindi la descrizione è fondamentale Leggetela tutta, non saltate nessun punto Qualora doveste non seguire i passaggi dovuti O sia quello che bisogna fare Verrete automaticamente esclusi Non si accettano errori Leggetevi la descrizione e basta I premi in palio Ci saranno 3 vincitori Il primo vincitore potrà scegliere 2 giochi tra questi 5 in palio Il secondo vincitore 2 giochi tra questi 5 in palio di quelli rimasti E l'ultimo vincitore è un gioco tra i 5 rimasti in palio, ovviamente Quindi i giochi in palio sono Dead Space 3 Crisis 2 Maximum Edition Mirror's Edge Burnout Paradise Ultimate E Dead Space 1 5 giochi che comunque sono molto molto belli E che sta a voi appunto aver fortuna di vincere L'estrazione verrà fatta giustamente Corrando.org Farò tutto un video di fila senza tagli Per farvi vedere che non c'è finzione Non c'è nulla di finto Non favorisco nessuno È un contest Lasciamolo come contest A me non interessa far vincere qualcuno E infine il contest finisce il 10 settembre 2013 Quindi avete un bel po' di tempo Non mi dilungo oltre Tutte le informazioni ce le avete in descrizione Quindi vi basta leggere la descrizione Tutto qua Vi saluto E mi auguro che partecipino tante persone E tengo a precisare un'ultima cosa Per questo contest Ci deve essere un minimo di 50 partecipanti Come minimo Se qualora non dovessero esserci questi 50 partecipanti Non il contest verrà automaticamente annullato Presumo che entro settembre Questi 50 partecipanti ci siano In caso contrario non ci sarà Quindi cercate di condividere il più possibile questo video Con i vostri amici Con chi conoscete E vediamo di raggiungere questa quota Detto questo Al prossimo video Ciao a tutti